Il giorno della memoria a Pescara è molto significativo per questo legame che c'è fra Pescara e la comunità ebraica che si è rafforzato in questi ultimi anni con la partecipazione della città alla giornata mondiale della cultura ebraica come unica città abruzzese. L'anno scorso abbiamo, come sapete, assegnato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, alla brigata ebraica e all'American Jewish Committee proprio per sottolineare il legame della città con la comunità ebraica. Quest'anno deporremo una corona a forma di stella di David sulla lapide che si trova a Palazzo di Città e che l'anno scorso abbiamo inserito nel contesto delle lapidi. Poi avremo un convegno importantissimo sulle tradizioni culturali italiane ed ebraiche perché noi discendiamo tutti dalla stessa cultura giudaico-romana. Per rafforzare questa posizione il convegno è necessario affinché comunque si ricordi sempre che cosa è stata la tragedia dello Shoah, si ricordi soprattutto ai giovani per far capire loro che le discriminazioni non possono esistere perché le discriminazioni portano alle guerre, portano ai lutti, portano ai dolori e soprattutto in questo momento storico in cui la pandemia ha colpito tutti nella stessa maniera nel mondo e ci ha fatto capire che siamo tutti ospiti di questo mondo, come dice bene Papa Francesco, dobbiamo fare in modo che questo ricordo e questa giornata sia un ricordo che ci porta verso una dimensione diversa di società, una società che lega tutti, che fa in modo che tutti possano vivere bene. Quindi la Shoah è una tragedia che noi dobbiamo stigmatizzare fortemente e dobbiamo non soltanto ricordare in questo giorno ma dobbiamo ricordarlo ogni giorno affinché ci sia un mondo migliore.